Come le carriatidi noi sosteniamo tutta l'architrave, nel frattempo stiamo facendo la muffa e i numeri rappresentano la nostra età, precaria 30, precaria 40, precaria 50 e la futura precaria. Secondo perché riteniamo più scandalosi, vergognosi che l'istituzione come quella della scuola applicano anche questi sistemi barbarici di una situazione in cui è prolungata negli anni, allargata nel numero di precarietà. E' una situazione per risparmio forse, ma soprattutto per tenere sotto controllo, sotto ricatto i lavoratori della scuola. Salviato, crimine di Stato, presagliato, crimine di Stato, studio, lavoro, sempre sotto ricatto, basta, 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 è l'ora del riscatto. ma soprattutto per le strade, nello di soffertato, nello di soffertato, nello di soffertato, nello di soffertato e la distrazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.